Come movimento studentesco abbiamo deciso di organizzare delle ripetizioni popolari, principalmente perché a causa dei tagli ai fondi scolastici la scuola non garantisce più un'istruzione di qualità, in quanto vi sono delle classi sovraffollate con 30-32 studenti in cui è difficile mantenere la calma e in cui i professori non sono in grado di poter seguire ogni studente nelle sue difficoltà e nelle sue particolarità. In più le scuole spesso non hanno denaro sufficienza per garantire corsi di recupero che sarebbero obbligate a tenere o a volte li fanno pagare e quindi non diventa più una prestazione pubblica e gratuita ma è una sorta di ripetizione privata. Le ripetizioni private vengono dati a costi esorbitanti sui 25-30 euro e soprattutto in un momento di crisi come questo le famiglie spesso non riescono a razionare i soldi per una serie di interventi di questo tipo. Come movimento studentesco abbiamo deciso di organizzare queste ripetizioni popolari che verranno date da studenti medio-universitari oppure da insegnanti e professori che si rendono disponibili. L'appuntamento è giovedì 26 gennaio all'Arci di Via Quarenghi alle ore 15.30 per accordarsi sulle forme. Le ripetizioni verranno date in base all'esigenza dello studente che dovrà mandare una mail con le sue informazioni, ovvero nome e cognome, in quale materia dovrebbe recuperare e quale argomento.